Ben a tutti ragazzi, Corgasmic e sono qui con un nuovo episodio delle squadre Potential Squad 2015-2016 Oggi parliamo della Juventus come anticipato nello scorso episodio E probabilmente il prossimo episodio sarà incentrato sulla Roma Che è una delle squadre che mi è stata più richiesta Quindi probabilmente farò così e continuate comunque a scrivermi nei commenti Le squadre da trattare nei prossimi episodi Comunque ho detto cominciamo con la Juventus Andiamo subito senza perderci in chiacchiere con Gigi Buffon Il modulo come avete visto ho messo il 3-5-2 Anche se Allegri a volte utilizza il 4-3-1-2 Però vabbè, vediamo subito Buffon Che non ho variato l'overall Anche se comunque ho fatto una buona stagione quest'anno Un'ottima stagione, gli ho aumentato qualche statistica Forse gli ho diminuito la velocità Però vabbè, comunque resta sempre un ottimo portiere Poi in difesa Barzagli l'ho da un gredato di 1 Perché ci sta giocato tipo 17 partite questa stagione Quindi poche per via degli infortuni E quindi è doveroso fargli un downgrade Però resta sempre un ottimo difensore Con una buona velocità E valori di fisico e difesa Soprattutto molto molto alti Quindi molto interessante per la Serie A Del resto anche Bonucci Che forse finalmente diventerà un giocatore raro Cosa che non so se è mai stato In questi anni di Ultimate Team Un notevole upgrade Per quanto riguarda sia l'overall che le statistiche Perché se lo merita quest'anno Ha fatto una stagione veramente strepitosa Bonucci Giocando soprattutto come un leader difensivo E quindi merita un upgrade Forse anche le statistiche saranno più elevate Non lo so Vedremo ovviamente quando uscirà FIFA 16 Però comunque sia Rende l'idea questa carta Poi andiamo con l'ultimo difensore Cioè Chiellini Che Non l'ho upgradeato Penso ne da un upgradeato Forse è rimasto 84 Non mi ricordo Gli ho upgradeato tipo la difesa E forse qualche altra statistica Poi vabbè Il resto sono più o meno le stesse statistiche Di quelle che ha su FIFA 15 Ha comunque disputato una buona stagione Ha fatto solo un gol quest'anno Di solito ne fa di più di testa Chiellini Però resta sempre un ottimo difensore Poi andiamo con il centrocampo In realtà Adesso tolgo un attimo In realtà la Juve Non gioca proprio con il trequartista E le due punte Ma dovrebbe giocare con i tre centrocampisti Più le due punte Oltre che gli esterni Gli esterni che fanno difesa e attacco ovviamente Quindi in realtà ci dovrebbe essere Tipo Marchisio davanti alla difesa Penso Adesso non ne sono sicuro Marchisio davanti alla difesa E che ne so Pogba E Chedira Un po' più Più esterni di lui Cioè anche Anche essi davanti alla difesa Però diciamo che Marchisio dovrebbe prendere il posto di Pirlo Dico dovrebbe Però vabbè Ho messo così Perché ovviamente quello che sto dicendo adesso Non c'è su FIFA Ultimate Team Non c'è quel modulo preciso che utilizza la Juventus Però dovrebbe rendere l'idea Comunque non dovrebbe giocare in attacco uno tra Dybala e Morata Comunque ripartiamo da Marchisio Dopo questa piccola parentesi Marchisio che è stato upgradato Ha fatto un'ottima stagione quest'anno Come del resto tutta la Juventus Visto che è andata in finale di Champions League Upgrade per lui E upgrade anche alle varie statistiche Non c'è molto da dire di Marchisio Stesso discorso per Pogba Grande stagione Tanti gol Tanti assist Ottimo giocatore Grande giocatore Anzi Aumento delle statistiche Ovviamente come è necessario che sia Poi andiamo sugli esterni Quadrado che è il neo acquisto della Juventus L'ultimo arrivato Che dovrebbe giocare appunto da esterno Sostituendosi credo a questo punto Alic Steiner Downgrade per lui L'avevate già visto Comunque nel potential transfer Perché Vabbè comunque Quando è andato al Chelsea Ha giocato pochissimo Ha fatto veramente male E quindi ci sta Un downgrade Però è veramente minimo Perché le statistiche più o meno Sono sempre le stesse Rispetto a FIFA 15 Comunque è un buon acquisto Per la Juventus E poi Alexandro Altro acquisto Che ovviamente sarà Penso terzino sinistro Però io l'ho messo Esterno di sinistra Per far combaciare Con il modulo Upgrade per lui Penso Dovrebbe Essere un 79 Credo L'ho messo a 80 Adesso non mi ricordo Con un 78-78 In difesa fisico Che ci potrebbe stare Un aumento di velocità Davvero un buon giocatore Alexandro Che ovviamente Si sostituisce a Evra Penso che comunque Partirà sempre Evra In queste prime giornate E poi magari Alexandro prenderà Il posto da titolare Ovviamente dipenderà Da come giocherà Comunque è un ottimo Acquisto per la Juventus Perché a sinistra Fa veramente il sfigurone Poi Come dicevo Di Bala Che dovrebbe giocare O lui Da seconda punta O Morata Poi si vedrà Di solito Allegri sta facendo Come ha fatto l'anno scorso Appunto con Morata Cioè facendolo partire Sempre dalla panchina E poi inserendolo A gara Iniziata Di Bala Che dovrebbe ricevere Un notevole upgrade Perché ha fatto una stagione Veramente esaltante Col Palermo L'anno scorso Con tanti gol E tanti assist E quindi Ci potrebbe stare Una versione 78 Rara di questo giocatore Ovviamente Non uscirà Trequartista Bensì seconda punta O attaccante Addirittura Quindi È solo appunto A scopo illustrativo Questa immagine Comunque È una bella carta Molto interessante Poi andiamo Con i due attaccanti Tanti Morata Che anche lui Dovrebbe avere Un upgrade Perché comunque Ha sempre giocato Molto bene Quest'anno Con la Juve Potrebbe anche Superare i 79 Di overall Secondo me Comunque le statistiche Sono molto interessanti Potrebbe essere una carta Buona Per la serie A E infine Mandzukic Che non ho voluto Upgradare Ha comunque fatto Un'ottima stagione Con l'Atletico Segnando Tipo 20 gol Se non sbaglio In tutte le competizioni Quindi È una Una buona stagione Per Mandzukic Non ho comunque Voluto upgradeare Perché non ero sicuro Probabilmente Resterà 83 Comunque fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti E comunque Gli ho aumentato Il tiro Se non sbaglio Il fisico Qualcosa del genere Comunque raga La squadra Era questa Presumibilmente La Juve Dovrebbe giocare Così O in modo simile Ripeto Non dovrebbe esserci Uno tra Morata E Dybala Ma un altro Centrocampista Che probabilmente È Chedira Oppure si sta parlando Negli ultimi giorni Di un possibile Arrivo di Witzel Se non dovesse arrivare Draxler Eccetera Eccetera E quindi Poi vabbè Ovviamente La Juve varierà Spero vi sia piaciuto Questo video Come sempre Vi invito a lasciare Un bel like Trecento mi piace Uscirà un nuovo Episodio Con una nuova squadra Appunto fatemi sapere Chi preferite Nei commenti E soprattutto Scrivetemi nei commenti Cosa ne pensate Di questa squadra Delle statistiche Dei giocatori E come l'avreste Fatta giocare voi La Juventus Iscrivetevi al canale Pagina Facebook Twitter Instagram Tutti i link Li trovate in descrizione E noi ci vediamo Al prossimo video Bella raga Grazie a tutti